SABBATO 22 GIugno SABBATO 22 GIugno Atto grave nei confronti dei dirigenti regionali. E poi la politica Fratelli d'Italia in pressing per un posto in giunta, pallante in pole per l'esecutivo, calenda verso il partito della Meloni, mazzuto blindato da Salvini. In bilico c'è un assessore di Forza Italia. Di spalla il punto del direttore di Primo Piano Molise, Luca Colella. Lavori sulle vie dei misteri, peggio di un dito nell'occhio. La festa del Corpus Domini, evento che ogni anno attira decine di migliaia di persone nel capoluogo di regione, rischia di essere seriamente compromessa dai lavori che stanno interessando il centro della città. Da qualche settimana infatti è in corso il rifacimento dei marciapiedi di numerose strade. Questo l'incipit del punto del direttore Colella. E poi a Termoli, ospedale a rischio, con Roberti, il neosindaco, che chiede un incontro a Sosto e a Giustini. Ieri vertici a porte chiuse in municipio con i primari. A proposito del Corpus Domini di Campobasso, città invasa dalle bancarelle, sale la febbre da concerti e misteri, centro chiuso al traffico veicolare. Domani di maio a Palazzo San Giorgio, ma non si affaccerà dal balcone. Durante la celebrazione degli ingegni, il vicepremier sosterrà tra la gente. A Campobasso, convocata l'assise il primo luglio, seduta di insediamento di Gravina e Soci. E poi a Isernia, vandali al parco giochi, il sindaco va in procura. Sempre nel capologo di regione, un terno e tre ambi sulla ruota di Firenze, 20-138 mila euro. Infine c'è lo sport con il Campobasso, Lupi, Giacobbe in città per rinnovare il contratto. Non c'è però la fumata bianca, ha offerte dalla C, dunque le parti dovranno riaggiornarsi. E poi la diatriba Isernia dà ai tifosi un attacco e 13 domande a biscotti. Infine il futsal Marro con il Cus anche in Serie A2. Poi passerà dietro la scrivania, il quotidiano del Molise. Corpus Domini, città blindata per una festa in sicurezza. Questo il titolo di apertura. Le raccomandazioni del neoassessore Cretella. Meglio muoversi a piedi. Villa di Capua chiusa contro i bivacchi. C'è 300 bancarelle in centro. L'attesa per i concertoni. E poi navette attive da Selvapiana e zona industriale. Il Santimoteo dà a salvare medici e sindaci a confronto con l'ASREM. Ieri il summit voluto da Roberti. Non lasceremo nulla di intentato. Queste le dichiarazioni del neo-sindaco. E poi c'è questo pauroso frontale del cuore della notte. In quattro restano feriti sulla statale in direzione Sepino. Dentro la notizia, trattore si ribalta miracolati i due a bordo. La cronaca, auto bidoni rifilate a Molisani, scattano gli arresti. Erano auto con i chilometri azzerati o comunque tolti. A Campobasso il consiglio targato Gravina debutta il primo luglio. E poi sempre il capologo di Regione vince 137 mila euro azzeccando un terno al lotto. Sotto la testata ci sono i richiami di sport. Campobasso, mercato in fermento, vicini Dalmazzi e Candellori. Menna si presenta da lupo. Poi le eccellenze, eserne a futuro incerto. I tifosi scrivono alla proprietà per chiedere garanzie. Il calcio a 5, il circolo, la nebbia, Cusmo Lise punta sulla vecchia guardia. Confermato l'esperto Michelino Marro. I quotidiani nazionali. Iniziamo da Il Giornale di Milano. Governo a cattone. Questo il titolo di apertura. Altro che sovranisti. Conte promette alla Unione Europea i soldi di Banca Italia e di Gucci. Salvini minaccia e tutti si preparano al voto. Il pezzo è firmato dal direttore Alessandro Sallusti. Doveva essere il governo che finalmente le avrebbe cantate all'Europa. Di santa ragione perché noi, o meglio loro, sono padroni in casa nostra. E chi se ne frega dell'arresto. Bene, al dunque hanno calato le braghe come neppure Monti, Letta e Renzi messi insieme avevano fatto. L'immagine del Premier Conte stravolto e impaurito in viso dopo una notte passata in bianco a pietire udienza e aiuto agli altri paesi europei riuniti in un vertice non stop la dice lunga di qualsiasi discorso. E il giornale cerca di certificare questa ricostruzione anche da questi due scatti, con questi due scatti. Loro tra i grandi ci sono Pedro Sanchez, Emmanuel Macron e Angela Merkel in questo scatto. Nell'altro noi con l'esclusa con Giuseppe Conte insieme a Teresa May. E poi questa notizia, firmato il patto di emergenza, se erutterà il Vesuvio tutti sfollati al nord. Firmato il piano di emergenza, dire il vero alcuni verranno anche eventualmente in Molise. Al Molise e all'Abruzzo toccherebbero i abitanti di Monte di Procida. Il patto di emergenza è stato firmato dal governatore De Luca nei giorni scorsi con l'assessore regionale Vincenzo Cotugno. Ne abbiamo dato anche notizia nel corso del nostro notiziario. Il Corriere della Sera sul CSM Manovre e Millanterie. Ora si gira pagina. Mattarella preoccupato. Segnale sulle riforme. C'è una vignetta esilarante, come sempre, di Giannelli Mattarella al CSM. Plenum, per modo di dire, dice il Presidente della Repubblica. E al suo fianco ci sono diverse sedie vuote. Tasse il Movimento 5 Stelle contro Salvini. Cerca scuse per la crisi. Il leader leghista. Non evitiamo la procedura UE a ogni costo. Poi ci sono queste due foto in taglio centrale. L'attenzione con l'Iran. Fermati i caccia. Già in volo il controordine di Trump a 10 minuti dalla guerra. La Repubblica sulle spalle di un uomo solo. Duro intervento di Mattarella al CSM. Il coacervo di Manovre Mina. Il prestigio della magistratura è inaccettabile. Ora si volta pagina. Il Quirinale ormai è l'unico interlocutore delle cancellerie estere. Si fa carico della mediazione sui conti per rispettare le regole dell'Unione Europea. Dopo Cassa Depositi e Prestiti il governo mette le mani sui fondi di Banca Italia. C'è questo scatto con in primo piano Sergio Mattarella durante il plenum straordinario del CSM. Poi di spalla invece c'è il commento di Massimo Giannini. La metamorfosi del Presidente. Il messaggero. Il 72% dei romani boccia raggi. Dunque un'apertura diversa. C'è un sondaggio. Euro media. Due suoi elettori su tre non rivoterebbero la sindaca. è incapace per il 68%. Se si tornasse al voto otterrebbe il 15,6%. Il clorolo su rifiuti strade e trasporti per il 70,7%. Deve lasciare. E poi allarme conti. Lite giallo-verde sulla flat tax. No di Bruxelles all'Italia. Conte pronto alla linea dura. Nessun alibi a Salvini. Consiglio superiore della magistratura. La strigliata di Mattarella. Fatti sconcertanti. Basta. Danni. Il colle. Oggi si volta pagina. Un altro PM indagato a Perugia. E poi c'è USA e Iran. Ad un passo dalla guerra. Trump. Ho fermato i caccia in extremis. Allarme voli. All'Italia modifica le rutte. Ed ancora la leggenda della Ferrari. Che diventa un'opera d'arte. Il Tribunale di Bologna ha stabilito che va tutelata. Il Sole 24 ore. Il quotidiano politico, economico e finanziario di Confindustria. Boccia. Il Governo deve chiarire se vuole la paralisi dell'industria. Questo è il virgolettato del Presidente di Confindustria. La sfida della crescita. Il leader dice Taranto, città simbolo. Il progetto di Mittal va sostenuto. Salario minimo, opere, fisco e scala mobile. Tutti i fronti aperti con le imprese. Poi il viadotto di Genova, primo pilone del nuovo ponte. Questo lo scatto, l'armatura del primo pilone del futuro ponte. L'opera ideata da Renzo Piano. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Sarà internazionale. Conte vuole Sensi e Barella in Nero Azzurro. Accordo 25 milioni per il regista del Sassuolo. Il gioiello del Cagliari costa molto, ma la trattativa evidentemente continua. E poi c'è Sarri-Ronaldo, il patto d'estate e il piano CR9. Perché CR9? Perché nella mente di Sarri CR7 può fare il 9. e può fare il centro avanti. Bene, è davvero tutto. Grazie per averci scelto. Prima dei saluti diamo uno sguardo al palinzesto di oggi. Cosa troverete sulla nostra rete? Lo vediamo insieme. Alle 11 conto alla rovescia. Sport e salute nella puntata di ieri sera condotta da Pasquale Damiani. Camminando Molise, 13.50 Musa TV. Alle 14 l'informazione con la collega Valentina Ciarlanti. Alle 16 conto alla rovescia. Alle 18 speciali della transumanza. Alle 19.30 ancora l'informazione. Alle 21 Paese Mio. con il professore Aldo Barletta. Alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale. Bene, è davvero tutto. Grazie per averci scelto. Buona mattinata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti